Una giornata in cui accogliere famiglie e studenti alla scoperta della scuola, delle opportunità offerte, aule fornite di LIM, palestra, aula scientifica, informatica, biblioteca, nonché vari laboratori organizzati in luogo dai docenti. Open day all'istituto comprensivo Musti di Miccoli di Berletta che ha aperto le sue porte ai numerosi visitatori. Protagonista della giornata, con il coinvolgimento attivo ed entusiasta di futuri neofiti, in previsione anche delle prossime iscrizioni a gennaio, la scuola secondaria di Miccoli. L'offerta formativa è illustrata dai docenti, funzioni strumentali per la continuità fausa di Fidio Fortino e Vincenzo Spinazzola. Molto apprezzato il concerto dell'Orchestra dell'Inerizzo Musicale che ha emozionato il pubblico con brani di Astor Piazzol, a seguire lo spettacolo scientifico del Circo delle Scienze. Presentato anche il progetto Aula Web 3.0 che si realizzerà con tablet e arredamento apposito nel prossimo anno scolastico per una delle future classi prime di scuola secondaria di primo grado. Sono molto fiera dei miei insegnanti che, credendo nell'unicità del proprio lavoro, ha detto il dirigente scolastico Mariangela Petroni, senza scoraggiamenti ma con professionalità ed entusiasmo, si impegnano quotidianamente, operando nel bene per il bene della comunità scolastica, crescendo in qualità ed efficienza. Il dirigente scolastico Mariangela Petroni e il suo staff di docenti apre le porte dell'Istituto Comprensivo Mussi di Miccoli, anche in previsione di quelle che saranno le future iscrizioni per gennaio 2016. In questo caso stiamo parlando di un progetto di coding che andremo a presentare ai ragazzi di quinta elementare. In più abbiamo poi un progetto di certificazione di competenze digitali intermedie per i ragazzi di scuola media. In pratica desideriamo introdurre i ragazzi di scuola elementare alla programmazione in maniera giocosa e quindi istruirli con un software che è questo Scratch ideato dal MIT di Boston. È un software molto innovativo che permette ai ragazzi di imparare a programmare giocando e quindi quasi senza nemmeno accorgersene. Mentre per i ragazzi più grandi, quelli di prima, seconda e terza media, faremo già qualcosa di molto più orientato non solo al mondo dello studio ma anche al mondo del lavoro e quindi acquisizione di competenze riguardanti l'utilizzo del web, i social network, le applicazioni d'ufficio e quindi il classico Word, Excel e PowerPoint certificando anche in questo caso le loro competenze con un diploma, una certificazione informatica di valenza europea. L'istituto Musti di Miccoli è un istituto comprensivo che si occupa della inclusività di tutti gli alunni sia quelli con disabilità che i normodotati per cui è una scuola progettuale, il progetto musicale perché è proprio una scuola di indirizzo musicale e poi progetti pomeridiani, c'è un'ampia offerta formativa, progetti di inglese, spagnolo, informatica. Ci occupiamo prevalentemente di tutti i bisogni degli alunni con una professionalità docente altamente qualificata e soprattutto un corpo docente stabile.